Andiamo tutta in scena, andiamo pronti in sartuaria per favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi, vai Motore, azioni, alza un pochino la testa Stai indietro a limite, adesso guarda in alto, alzi verso di me Guarda sempre le mie mano Non vi va come vi guardo? Non vi guardo, non vi guardo Giriamo Buonasera ragazzi Un film non può esistere senza musica Nel senso che la musica, in un film, può esprimere quello che non può essere detto in un altro modo Quello che non può essere taciuto E questa è la sua prima funzione Quella di suggerire i sentimenti che il pubblico dovrebbe provare Paradossalmente, quando questo avviene, il pubblico non avvertirà in modo cosciente L'ingresso della musica in quel momento del film La seconda funzione della musica è un po' più tecnica Un film è fatto di molti pezzi, artificialmente legati l'uno all'altro La musica fa da collante a tutti questi pezzi Ne elimina le differenze Creando un'unica sequenza che il pubblico percepisce come continua e inevitabile Un paradosso della colonna sonora è che Quando viene correttamente usata, anche una musica di povera qualità può essere efficace O viceversa, una musica di magnifica qualità, ma che non è usata nel modo giusto, può fare danni al film In realtà non si sa bene perché la colonna sonora è necessaria in un film Ma noi sappiamo che le sequenze più importanti dal punto di vista emotivo In un film, se fossero prive della musica, potrebbero risultare intollerabili o fredde Qui adesso seguono tre piccoli esempi di musica che ho scritto per un film da me anche diretto Dove vi racconto in che modo ho cercato di indirizzare il pubblico verso un mood piuttosto che un altro Proprio per aiutare la continuità e la resa emozionale della storia Proprio per aiutare la storia Questo tema è nato perché a me serviva per questa serie un tema che desse speranza Un tema in qualche modo che facesse capire che può trionfare il valore dell'impegno civile Anche quando nasce dal basso, quando nasce da una persona semplice come può essere un operaia tessile In un paese che volutamente, in un paesino del Lazio immaginario Che volutamente noi abbiamo cercato di immaginare come se fosse un po' sospeso nel passato L'atmosfera del film è retro, è nostalgica, è un po' anni 50, anni 60, i costumi, le acconciature, i colori Perché? Perché era un'epoca dove la speranza e il boom economico potevano autorizzare a pensare Che l'impegno personale in qualche modo potesse pagare E io credo che questo tipo d'atmosfera, avendo come testimonia una come Sabrina Ferilli Che è una donna che è fortemente portatrice della tradizione Della schiettezza, della velocità, di ciò che funzionava una volta Potesse pagare, potesse vincere, potesse essere più rappresentativo, meno finto moderno Per cui mi serviva un tema che fosse anche suonato Anche suonato in maniera più dolce, più da cariglion Potesse comunque ricordare che lei è qualcuno che se vuole può farcela, può provarci Anche può perdere, ma comunque non è il tipo depresso che si rassegna Anche suonato in maniera più dolce, più da cariglion L'esigenza di rappresentare i pur pochi momenti in cui durante la serie si afferma un valore positivo Cioè Angela riesce nel suo tentativo di conquistare una vittoria Anche ai punti, anche di breve durata A me serviva di poter sottolineare i momenti in cui lei diceva Beh, stavolta ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta per poco Però abbiamo fatto un passo avanti Visto che comunque è una guerra di trincea, ogni giorno uno conquista un metro E ho pensato che variando di poco il tema, quello diciamo così, il main theme della serie Variandolo in qualche modo, ma conservando questo disegno ascendente Quindi questo tema è una variazione dell'altro Con un, credo, nelle mie intenzioni, un empito di epicità apparente in più Dovuta alla soddisfazione di questo risultato raggiunto Tra l'altro, conserva l'aspetto comunque È comunque un tema popolare, basato su accordi di tre suoni Di triadi, senza settine, senza complicazioni Per suggerire, a mio avviso, la semplicità del personaggio Cioè voglio una cosa, vado dritto Non penso che ci siano dei corrotti Non penso che ci siano delle persone che non la pensano come me Non penso che ci siano delle persone che non la pensano come me Non penso che ci siano dei persone che non la pensano come me Nei film c'è anche sempre il tema patetico che esprime l'impossibilità di raggiungere un obiettivo o anche il lutto di chi lo ha perso l'obiettivo che aveva Io ho pensato che in questo tipo di clima servisse anche qui un tema fatto su accordi di tre suoni perché comunque la semplicità anche bonaria dei personaggi poteva rappresentarlo meglio e in questo caso ci ho messo però a un certo punto la possibilità del riscatto cioè sì ok io sono a lutto perché questa cosa non l'ho raggiunta perché ho perso una cosa più importante per me in questo caso il matrimonio dei due iconogi il tema si chiama matrimonio finito però c'è una possibilità di riscatto però c'è la possibilità di non dichiararmi vinto o comunque di non deprimermi quindi c'è un momento epico che nasce da questo clima molto patetico qui è ancora triste e qui è ancora l'elaborazione del lutto però qui c'è un risveglio epico la possibilità di non arrendersi e di sperare che prima o poi ce la si possa fare